Non lo scaldano, a fortuna. Non riempio. Abbiamo un attimo solo problemi con il disagrimento delle vallole di ghiaccio. Ecco l'atto via infatti. Staccatevi tutto bene il resto. Grazie, buonasera, presto. Grazie, grazie, vedeteci sulla destra. Air panel su vuoto, air panel su vuoto. In più, un shutdown anti ice. After start... Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 V1 VR 4 decline, VR 80 lights 6.500 cambia adesso, puntata Grade trast 2100 827 Sf1 837 836 837 837 837 837 837 937 938 938 Grazie Grazie Grazie